Dal 10 al 13 settembre, 22esimo Paglio dei Mussi a Teglio Veneto. Giovedì 10 alle 19.30 la cena tipica a base di bacalà e sardegna in Saur. Alle 21.30 la presentazione del libro Vacanze Campagnuole, presso il Teatro dell'Oratorio. Venerdì 11 alle 19 l'apertura della cucina e alle 21.30 il concerto musicale con il gruppo Stereo Live. Sabato 12 alle 12.30 il pranzo dell'Associazione Anziani. Alle 19 l'apertura della cucina e alle 21.30 teatro Canzone con i Tiratirache. Domenica 13 settembre alle 9, quarta marcia del Paglio. Alle 9.30 l'apertura delle esposizioni artistiche. Alle 11.30 l'apertura della cucina e alle 16.30 musica itinerante con quella sporca mezza dozzina. Alle 17.30 il corteo dei figuranti. Alle 18, 22esimo Paglio dei Mussi, la sfilata degli asinelli delle contrade per le vie del centro. Inserata il concerto musicale con il gruppo Il Vescovo e il Cialatano.